Automazioni nella tua Smart Home Fritz? Chiedi a Fritz. Giordano vorrebbe sfruttare delle automazioni all'interno della sua Smart Home Fritz, sfruttando quelli che possono essere dei cambiamenti di stato di un determinato dispositivo o i cambiamenti di temperatura rilevati da, per esempio, una nostra Fritz DECT 200 o 210. Sì, Giordano, è possibile farlo direttamente con l'interfaccia utente del Fritzbox e ovviamente il nostro Fritz OS e i nostri dispositivi Smart Home dedicati, come per esempio la Fritz DECT 200, che oltre a rilevare quella che è la temperatura, può rilevare anche quello che è un cambio di stato in base alla potenza. In studio ovviamente non posso farti vedere quello che è il cambiamento di stato di temperatura, ma ti farò vedere quello che è un cambiamento di stato della potenza del dispositivo, che ovviamente è agganciato alla Fritz DECT 200, come per esempio un bollitore. Qui abbiamo anche una nostra Fritz DECT 500 che sfrutterà quello che è il cambiamento di stato di questo determinato bollitore e ovviamente farà un'altra azione. Entriamo all'interno dell'interfaccia utente del Fritzbox e andiamo a sfruttare questa potente funzione che si chiama Routine. Una volta che sono entrato all'interno dell'interfaccia utente del Fritzbox, mi basta far clic su Smart Home e far clic su dispositivi e gruppi. Qua andrò a vedere i miei due dispositivi connessi alla mia Smart Home, come il bollitore e anche la Fritz DECT 500. Una volta che faccio clic su Automazione, potrò andare a creare quella che è una Routine, che lavora su una condizione IF-THEN. Quindi se succede qualcosa, fai una determinata altra azione. Facciamo clic su Crea Routine e andiamo a chiamare questa nuova Routine Giordano. Facciamo clic su Avanti. E qua andrò a selezionare il dispositivo che andrà a controllare l'innesco di questa determinata azione, ovvero la mia presa intelligente, ovvero il mio bollitore che è connesso alla Fritz DECT 200. Facciamo clic su Avanti e andiamo a selezionare il cambiamento di stato che ovviamente questa Fritz DECT 200 deve rilevare per far partire l'azione di Routine. Selezioniamo il cambiamento di stato in potenza, perché come vi dicevo prima non posso andare a cambiare lo stato in base alla temperatura, perché siamo in uno studio, e andiamo a selezionare che questa potenza deve essere superiore a 100 Watt per far accadere qualcosa. Quindi se la mia DECT 200 andrà a rilevare quello che è un cambiamento di stato di questo determinato dispositivo connesso come il nostro bollitore, ovviamente che va a superare un determinato range di potenza, farà succedere e farà accadere un'azione a un altro dispositivo connesso nella rete locale, ovvero la nostra lampadina. Creiamo appunto questa condizione con l'accensione della lampadina. Questo è un modello che ho creato in precedenza. Faccio clic su Avanti e il Freeze Box Mi darà quello che è un riepilogo della Routine che ho appena creato. Facciamo clic su Fine e adesso la Routine è completamente creata. Immaginiamoci adesso che il nostro bollitore si accenda e vada a superare una determinata soglia di vattaggio, io l'ho impostata a 100 Watt. Che cosa succederà? Ovviamente la lampadina andrà ad accendersi. Andiamo ad accendere il nostro bollitore. Ovviamente la rilevazione della potenza viene fatta dalla FrizzDect 200 che trasmette i dati al Freeze Box a cui è collegata e la lampadina ora si è accesa perché il bollitore ha superato la potenza di 100 Watt. È stato super semplice andare a creare questa routine. Possiamo creare X routine in base alle nostre esigenze e quindi personalizzarle ovviamente nel migliore dei modi. Per qualsiasi commento scrivete all'interno dei commenti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ovviamente di attivare le notifiche. E ci vediamo al prossimo. Chiedi a Frizz. Chiedi a Frizz.